La campagna romagnola segue ora ritmi di produzioni intensive, filari di viti, piantagioni di alberi da frutta si stendono su grandi territori. Negli anni venti del secolo scorso si faceva molto affidamento sul grano, sull'uva e sulla canapa, una produzione questa che si è andata perdendo nel tempo, come si è andata perdendo la tradizione del rito del matrimonio in campagna. Di questi eventi sono rimaste le immagini, vediamole. Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.